Fimmina TV, gli approfondimenti sui fatti della settimana. Si è svolto presso la sede dell'Associazione Culturale La Riete di Siderno, in collaborazione con Fimmina TV, l'incontro Il Viaggio dei Migranti, spunti e riflessioni sul tema, narrate dal racconto La Macchia Nera di Maria Ida Gemelli e dall'installazione del mare al cielo di Mariella Costa. Hanno preso parte all'evento Maria Ida Gemelli, autrice del racconto La Macchia Nera, Mariella Costa, artista, Filippo Todaro, giornalista e scrittore, Di Masi Rosella, segretaria protezione civile Aniello Orsino di Roccella Ionica, Sabrina Michalizzi, Rajiv Gandhi Home for Handicapped, sede italiana Ollus, Alessandra D'Aquino, progetto Sprar, cooperativa Goel Pathos. ...e norme dragoni del basilisco spetto, volteggianti, mutevoli e bizzarre, trasportate dal flebile vento a sottigliarsi come anche minacciose trafiggere l'orizzonte lì oltre il mare. ...